Siete con l'indau quindi sono a disposizione per tutto ecco. Bene, iniziamo. Ok, ci siamo. 3, 2, 1. Bentornati, questo è Orso Bruno XL, il nostro appuntamento del sabato allargato perché abbiamo come sempre, come tutti i sabati, un ospite che in questo caso è Paolo Riberi, autore di numerosi testi per l'editore Lindau. Tutti molto interessanti, non solo per l'indau in realtà perché ne ha scritto anche un altro in collaborazione per l'editore Mimesis di cui poi parleremo e presto ospiteremo da queste parti anche il suo coautore di quel libro ma non vi voglio anticipare di più. Visto che ha avuto abbastanza successo, devo dire avete mandato tante domande sulla puntata che abbiamo fatto con Andrea Venanzoni in cui ci siamo occupati della magia e delle sue applicazioni nella contemporaneità in modo molto, diciamo, molto serio, molto elevato. Io ho voluto invitare Paolo Riberi perché lui ha scritto tanto a proposito di gnosi e gnosticismo che secondo me sono temi fondamentali perché oggi assistiamo a un ritorno di questi temi e di questa mentalità soprattutto perché è una forma diciamo di anche di visione del mondo. Poi ce lo spiegherà il nostro ospite abbiamo anche tanti esempi nella cultura, nella cinematografia, nei romanzi e potete ricostruire tutti questi passaggi tramite i suoi libri che poi vi consiglieremo uno per uno. Io comincerei dall'inizio Paolo a parlare di cosa sia e di quando nasca l'ognosticismo perché sono due cose diverse, vogliamo dire l'ognosticismo è il fenomeno storico invece l'agnosi è la visione del mondo, l'idea che ci sta dietro, un pensiero filosofico che però arriva fino a oggi, ci innerva un po' anche la nostra cultura. Cominciamo dall'inizio a spiegare quando nasce e che cos'è soprattutto l'ognosticismo. Benissimo, grazie ancora dell'opportunità. Dunque, l'ognosticismo e l'agnosi, come hai detto tu, due fenomeni molto differenti. L'ognosticismo dal punto di vista storico si contestualizza tra la Palestina, l'Egitto e l'ambiente siriaco dei primi secoli dell'era cristiana, diciamo per dare delle coordinate dal primo al quarto secolo dopo Cristo. In quell'età magmatica in cui il cristianesimo in senso ampio è un fenomeno che sta emergendo ma non è ancora una religione istituzionale, in cui circolano ogni tipo di scritti e di opinioni legate alla figura di Gesù Cristo, ed ecco, parallelamente a quello che poi diventerà il cristianesimo ufficiale, il cristianesimo del Nuovo Testamento, circola un altro pensiero, un pensiero completamente a sé stante, che condivide con il cristianesimo la figura storica di Gesù, ma poco altro. Erroneamente viene spesso definito un'eresia cristiana, ecco, no, l'ognosticismo non è un'eresia, perché l'eresia, eresis, è una scelta, è un ramo parallelo. Qua più che di ramo parallelo, di ramo, come dire, secondario, bisognerebbe parlare di un vero e proprio albero a sé stante, che affonda le radici nello stesso terreno, l'ambiente giudaico, la figura di Gesù, l'epoca del secondo tempio, ma di per sé propone una visione del mondo radicalmente opposta a quella cristiana. Ecco, lì ci sono tante, potremmo chiamarle sette con un linguaggio contemporaneo, tante diramazioni, no, di questa nebulosa gnostica, e dice, ma che c'entra con, perché parlate di questa roba del secondo secolo? Beh, intanto perché qui parliamo di quello che ci pare, e quindi parliamo anche di questo, no, sto scherzando ovviamente, no, perché poi vedremo, perché arriveremo alle applicazioni contemporanee, no, cercheremo di fare un po' una storia di questo movimento. Possiamo dire, utilizzando una semplificazione un po' grossolana forse, che però tanti autori hanno utilizzato negli anni, che ci sono delle caratteristiche che legano tutti questi movimenti gnostici, no, cioè c'è un'idea in fondo che il mondo, la creazione, così com'è, abbia qualcosa che non va, no, non va bene. E' un po', e qui farei il primo parallelo, è un po' una situazione simile a quella che noi viviamo oggi, c'è un momento di grande crisi, parliamo degli anni in cui, insomma, per esempio il Tempio di Gerusalemme, storico luogo, no, che fa, come dire, attira, no, le speranze anche messianiche del popolo ebraico viene distrutto, quindi ci sono dei, sono movimenti, è un momento di profondi cambiamenti culturali, di attese infrante, di paure anche molto forti e quindi questi cristiani primordiali, diciamo così, si guardano intorno e cercano di dare una spiegazione a questo disagio che vedono, non a questa disillusione. E oggi un po' viviamo in questa maniera, vedremo poi come, io penso a certi autori del femminismo o gli accelerazionisti di oggi tendono a vedere, penso a Donna Haraway, no, questa autrice che scrive tu lucene, cioè, vede questo mondo devastato, no, e continua a dire noi siamo materia organica, cioè siamo come il plankton alla fine, no, quindi l'ognostico ha un po' questo senso di smarrimento del mondo e cerca di dare una spiegazione, se capisco bene anche già avendo letto i tuoi libri, di dire, beh, ma quindi com'è possibile che se c'è un Dio e se questo Dio è perfetto, un demalum, no, da dove viene tutto ciò? Eh sì, questo è proprio il contesto culturale, politico, sociale da cui viene fuori l'ognosticismo antico ma da cui più in generale, come hai detto bene, viene fuori, riemerge questo torrente carsico dell'ognosticismo e dell'agnosi più in generale attraverso la storia e quindi i vari momenti storici. L'ognosticismo è figlio della crisi. Nell'introduzione del Serpente e la Croce, che è uno dei miei ultimi saggi, metto proprio in relazione questa parola magica, crisi. Crisi che può essere una crisi politica, una crisi sociale, ma anche una crisi individuale, e quindi psicologica, intraspettiva. Nel momento in cui l'uomo si trova smarrito e in difficoltà inizia a guardarsi intorno e capire, cercare di capire appunto quali siano le cause di questo male. Laddove il cristianesimo cerca di dare una risposta consolatoria, ecumenica, proponendoci una visione che in qualche modo farà giustizia e quindi l'idea di un Dio giusto, di un progetto cosmico e di un equilibrio. Al contrario, gli gnostici mettono in luce un forte squilibrio e ritengono che questo mondo sia anzitutto un mondo fittizio, virtuale, un non mondo, un mondo apparente, chiaramente riprendendo la lezione della caverna di Platone, quindi andiamo ancora qui indietro, ma al tempo stesso sia anche un mondo asimmetrico, squilibrato, ingiusto, perché il suo creatore non è il vero Dio, il buon Dio di cui parla Gesù, ma è un despota, è un impostore, è quel collerico Dio dell'Antico Testamento che in realtà i tratti del buon padre non li ha mai avuti, secondo l'ognosticismo, è il Dio del diluvio universale, è il Dio del divieto di mangiare il frutto dell'Eden. Ecco, l'ognosticismo mette un dito nella piaga e decide di separare Antico e Nuovo Testamento. Il Dio dell'Antico Testamento è l'antagonista del racconto, del mito, della storia, mentre il Dio del Nuovo Testamento è altro, è il vero Dio, ecco, che è stato in qualche modo temporaneamente usurpato dal creatore di questa prigione cosmica, o per fare un'allusione già verso l'attualità, perché giustamente accennavi all'attualità di questo Matrix. Esatto, perché poi lo vedremo, il messaggio gnostico, l'editore Dattone è scritto anche in un libro che proprio va da Matrix poi ad altre serie, film e televisive, è scritto Il risveglio di Neo, è scritto Pillola rossa o Loggia nera. Come vedi, io sono all'interno della Loggia nera di Twin Peaks, fra un po' appariranno nani e altre cose, e ballerine, però è un po' diversa, nel mio caso, e qui dice, insomma, l'ascoltatore che magari non mastica, dice, vabbè, ma una volta che succede questo, qual è il punto, forse anche politico, che ci riguarda, no? E io cerco di arrivare lì, magari anticipando un po', allora ci sono tanti correnti, anche che arrivano probabilmente da Oriente, cioè questi sette sentono un'influenza orientale che è molto, potremmo dire, dualista, no? Cioè, c'è, mentre nel cristianesimo, bene e male non sono sullo stesso piano, no? Anche il demonio è uno strumento comunque di Dio, invece qui c'è una netta divisione fra il bene e il male, un bene assoluto è un male altrettanto assoluto, diciamo così, è una cosa che ritroviamo nel manicheismo, ad esempio, no? O in fondo quest'idea che il mondo sia corrotto è un po' un'idea che anima l'induismo o certe correnti del buddismo in cui, infatti, il credente, non il credente, diciamo il praticante, che poi è diverso, cerca di estraniarsi dal mondo, no? Di tornare in contatto con la divinità e attraverso appunto di raggiungere il nirvana, che poi questo momento, che anche l'ognostico rimpiange, no? Cioè, l'ognostico rimpiange che cosa? L'età dell'oro, il paradiso terrestre, in questo momento di unione con Dio. Ed è lì il punto politico, perché forse state già capendo dove vogliamo arrivare, dove voglio arrivare, è questo, perché poi come fa l'ognostico a tornare a questo stato, no? Di beatitudine iniziale. Ebbè, lo fa seguendo un particolare gruppo di persone, gli insegnamenti di qualcuno che è depositario appunto di questa gnosi, di questa conoscenza. Qui è un passaggio fondamentale. Sì, assolutamente. L'idea dell'ognostico, assolutamente dal punto di vista politico, culturale, è proprio quello di un esule in terra straniera. Non a caso gli gnostici si definiscono stranieri, si definiscono allogenes, quindi alieni in un certo termine. Badate bene quando si parla di extraterrestri. Si parla di persone che non si sentono rappresentate, non si sentono inserite in una dinamica sociale, proprio perché, come accennavi tu, la società li ha traditi, li ha abbandonati. Gli gnostici, a mio personale avviso, ma è un'opinione ormai consolidata, sono i figli di quella generazione che fece la rivolta. I figli di quella generazione che cercò di cambiare per sempre la Giudea con la prima e poi successivamente anche la seconda guerra giudaica. Laddove, come hai accennato tu, Tito distrugge il Tempio, ma soprattutto laddove Adriano distrugge Gerusalemme intera e ne fa un'altra città, Elia Capitolina, queste persone sono orfane, orfane di tutto, magari anche dei genitori, vista la portata brutale della guerra, ma sono orfani di una società, di una direzione politica, di una cultura e di una religione. Quindi l'ognosticismo effettivamente a me non piace, nei miei libri cerco di non parlare mai di gnosticismo come religione. L'ognosticismo è un ibrido, ha una componente sicuramente spirituale, ha una componente marcatamente esoterica, ma anche una componente filosofica e una quarta componente molto importante di natura politica, o magari per usare un parolone metapolitica, che vede le soluzioni della politica in un ritorno all'origine, laddove l'origine non è più una restaurazione del Messia o del Regno d'Israele, ma è proprio una fuga da questo mondo. Se vogliamo alla base c'è poi la prima teoria del complotto della storia, perché in qualche modo l'uomo ritiene che le sue sorti siano destinate a essere frustrate, perché in qualche modo a tirare le fila della storia non c'è soltanto Roma, non ci sono soltanto gli avversari politici, ma ci sono gli arconti dell'entità in qualche modo demoniache, che rispondono a questo dio impostore, che interagiscono nella storia e la manipolano, la direzionano, la orientano sempre contro l'uomo, sempre a danni dell'uomo, laddove per uomo si intende l'ognostico, l'individuo, non è più una storia universale. Certo, quando Fantozzi esce per andare al mare, si manifesta la nuvola, lì c'è l'intervento dell'arconte che gli ha mandato la nuvoletta, però questo capite bene, adesso cercando di scherzarci su, però capite bene dal punto di vista politico è fondamentale, perché introduce alcuni concetti. Uno, noi dobbiamo salvarci e lo possiamo fare con le nostre forze, cioè senza la mediazione divina, non c'è bisogno di Gesù Cristo che viene e ci salva, possiamo farlo con la conoscenza, con una conoscenza normalmente segreta a cui ci abbeveriamo per tornare a questo stato di battitudine iniziale e liberarci da questa prigione terrena. Quindi c'è un'idea di uno, separazione del corpo dallo spirito e due, appunto, questa idea di ritorno a uno stato precedente di benessere che invece da qualcuno ci viene negato e questa lotta contro questi nemici dell'umanità che continuano a insistere a perseguitarci. E poi c'è un'idea fondamentalmente messianica, solo che il Messia che non può arrivare, perché quel momento di delusione non arriva nella realtà sotto forma di figlio di Dio, ma arriva sotto forma magari di leader politico, magari di attivista, di capo tribù, di capo cortata. Ed è lì, è lui che, o questo signore o vari altri signori che ci insegnano come possiamo ritornare al paradiso terrestre. E capite che qua si introduce un'idea politicamente anche molto interessante, ma anche molto pericolosa, di cui parliamo fra un attimo dopo una piccola pausa. Ok, devo un secondo sistemare. Perfetto. Questa prima parte, come ti sembra? Sta andando bene? Ti piace? Come? Sta andando bene questa prima parte? Chiarissimo, chiarissimo. Ottimo, ottimo. Riprendiamo. E rieccoci qua, questo è Orso Bruno XL, siamo con Paolo Riberi, con cui stiamo esaminando questa galassia dell'ognosticismo che è interessantissima, molto complicata e molto difficile anche da capire. Io vi ricordo i suoi libri, una panoramica molto molto interessante, la trovate nel Serpente della Croce, che è un po' un racconto totale dell'agnosi, insomma, per chi non ne conoscesse i dettagli. Può trovare qui proprio una storia completa, anche delle cose che stiamo dicendo in maniera molto più approfondita, ovviamente. Sempre di recente, potete trovare, perché anche questo è di recente pubblicazione o ristampa, perché mi pare che si è adattato fino all'ultima versione Resurrections, no, di Matrix, il risveglio di Neo, mitologia agnosi, massoneria e metaverso da Matrix a Resurrections, che è un altro interessante, perché Matrix riprende, no, questa idea agnostica. Facciamo solo una puntatina per dirlo, perché come abbiamo detto prima, no, il mondo per l'ognostico è un'illusione, no, la vita, è un'illusione, la vera vita, vera, piena, è quella dello spirito, no, è quella del paradiso terrestre a cui bisogna ritornare, è l'idea della caverna platonica, noi siamo presi, guardiamo le ombre proiettate su un muro, siamo addormentati, ed ecco Matrix, no, se scegli quale pillola vuoi, vuoi risvegliarti o vuoi continuare a vivere da addormentato, vuoi vedere com'è il mondo, infatti in Matrix, vi ricordate, quando si risvegliano poi da queste specie di bare, no, quindi si esce dalla morte, che è la prigione del corpo, ci si guarda intorno e il mondo è devastato in realtà, no, siamo tutti prigionieri di un'illusione. E magari su questo torneremo, e già ti invito per una seconda puntata, una seconda conversazione su questo, però qui mi interessa più capire intanto l'aspetto politico, perché questo dal punto di vista politico è rilevantissimo, perché capisci che introduce, che cosa? L'idea di un piccolo gruppo, quasi un'idea messianica della politica, un piccolo gruppo di eletti che ti insegnano come devi stare al mondo, ed è una cosa che noi rivediamo, no, per passaggi, cioè da queste prime, diciamo, movimenti ebraici, poi li ritroviamo nel cristianesimo, e poi da origine a tutta una serie di, invece, quelli lì sì di eresie cristiane che si ispirano all'ognosticismo. Eh, questo sì, perché l'ognosticismo è sicuramente un fenomeno non istituzionale, non basato su libri, su testi sacri, certo c'erano i Vangeli apocrifi, c'erano questi scheletri di riferimento, ma in qualche modo la natura più profonda dell'ognosticismo è carismatica, fa riferimento, come si è detto, a queste figure intermediarie tra il cielo e la terra. In qualche modo, con, diciamo, la fine del primo secolo si decide di, in ambito cristiano, chiudere il canone. Un manoscritto antico che si chiama il canone di muratori, definito, il canone muratoriano, proprio mette molto in enfasi questa cosa e dice che certi scritti sarebbero anche ispirati, ma ormai l'era dei profeti è finita. Il pastore di Erma, ad esempio, non può più entrare nella Bibbia, perché in qualche modo è finita l'era dei profeti ed è iniziata l'era delle istituzioni. L'ognosticismo, al contrario, questa chiusura non c'era mai. E quindi introduce l'idea del profeta, che non è per forza, come si è detto prima, un profeta necessariamente religioso. Ecco, l'altra caratteristica è proprio la rottura di questi ambiti. È un profeta religioso, è un profeta esoterico, ma è anche un filosofo e un profeta politico. Quindi assolutamente è un leader, certo, è un leader carismatico. Come lo studierà poi Max Weber in futuro, che tra l'altro da queste idee poi prenderà e ci arriviamo, passando dal protestantesimo, perché è da lì che nascono tanti movimenti interessanti. Sì, decisamente, decisamente. E appunto, mi permetto una piccola digressione, ma proprio un cenno. Abbiamo sempre parlato al maschile. L'ognosticismo in realtà qua bisognerebbe cambiare un attimo per nome, perché mentre il cristianesimo in qualche modo ha come cardine l'idea del peccato originale, che è un peccato della donna, l'ognosticismo, gnosis, significa conoscenza, enfatizza il gesto di Eva, di mangiare dell'albero della conoscenza. Ah, ma adesso ci arriviamo, perché il femminile è importantissimo e oggi ritorna alla grande, perché noi oggi vediamo tutto intorno questa esaltazione della terra, della dea, della potenza, del salvifica, del femminile, di questa sapienza antica, Sofia, che apprendiamo dalla natura, no? È quasi un luogo comune, dal femminile dobbiamo imparare a fare questo, 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 è finita l'era dei padri, basta patriarcato, dal dove è chiaro che il padre è quello superiore, no? Per cui c'è questa contraddizione anche, no? Infatti il serpente per l'ognosticismo è simbolo della saggezza, in realtà, così come per gli indiani, ad esempio, nella Kundalini, questa forza femminile, no? Di attrazione, forza sessuale, è un serpente che sta appunto nella zona pelvica e ritorna quest'idea sempre, no? Di questa forza femminile che permea il mondo, no? Che sta, quest'anima del mondo, potremmo dire esattamente, no? Assolutamente sì, ma con un importante distinguo. Ricordiamoci che nell'ognosticismo, per mondo, quello di cui tu parli, ovviamente è il mondo vero, è il mondo che sta al di là di questo, perché questo mondo, quello di carne e sangue e materia, che ci circonda non è altro che un'apparenza, l'abbiamo già detto, ma quindi l'identità femminile non è la gabbia, ma è ciò che sta al di là della gabbia, è la voce che viene dall'al di là, laddove al di là non è l'oltretomba, è proprio ciò che sta al di là del velo, è ciò che sta al di là del velo di Maya o per tornare a una situazione E' come questo piano, diciamo, intermedio, no? Fra la divinità e la realtà, no? Un piano intermedio che oggi poi ritorna, ritorna anche plasticamente, proprio concretamente nel mondo virtuale, no? Del web, no? Dove noi viviamo questa esperienza. E' qui interessante perché si introducono, potremmo parlare 12 ore e non avremmo comunque finito che è una piccola parte. Qui c'è questa, mettiamole su uno scaffale, no? La parte carismatica, cioè l'idea, introduciamo l'idea che c'è qualcuno che ci può salvare, non è una figura divina, non è Gesù Cristo che è le chiavi della storia, ma c'è un uomo che ha una dottrina tendenzialmente, no? Cioè ha una serie di idee che se noi le mettiamo in pratica, ci ispiriamo a lui, lo seguiamo, non tutti possono farlo, ma alcuni sì, alcuni sì, e quindi se noi lo seguiamo possiamo ritornare a paradiso terrestre. Questo è un punto di vista politico fondamentale. Dove lo ritroviamo oggi? Beh, oggi io penso subito, anche tu hai nominato Matrix, a la cultura woke, cioè che è interessantissima negli Stati Uniti, l'idea del risvegliato, no? Noi ci siamo risvegliati, abbiamo visto questo mondo orribile e adesso noi vi proponiamo la nostra ricetta per creare una società meravigliosa, in realtà poi qui c'è uno scatto ovviamente, perché poi la politica dimentica queste radici gnostiche, lo gnostico vuole una vita ultra terrena, non vuole qua, no? Il paradiso. Invece poi quando queste idee transitano per vari percorsi nella politica, dicevamo prima, perché cercavo di ricostruirlo, per arrivare alla cultura di oggi, perché ci deve essere una traccia da seguire, no? Cioè noi siamo partiti dalla Giudea, dalle zone dell'Oriente, anche greco, perché c'è il neoplatonismo, c'è il platonismo e questo. Poi questa roba ritorna però e ritorna, la ritroviamo in Italia attraverso probabilmente i filosofi neoplatonici che hanno letto, no? Il Corpus Hermeticum, Hermete Trismegisto, queste cose qui. Poi però queste dottrine che vanno verso nord, diciamo così, e innervano il protestantesimo. Erasmo da Rotterdam, uno dei primi, i grandi padri della riforma intellettuali, è uno che è imbevuto di questa cultura, l'umanesimo imbevuto di questa cultura gnostica, no? Di questa idea che si possa sapere e arrivare. Alcuni restano nell'alveo del cristianesimo ufficiale, altri escono. E da lì varie eventuali eresie o chiese riformate. Assolutamente, sì, sì. Questa, hai tracciato bene, è proprio l'evoluzione storica che non è, vorrei che emergesse bene questo concetto, non stiamo qua propugnando una teoria del complotto, una setta che sopravvive, come si può vedere nel codice da Vinci o in cose del genere. Al contrario, è un'idea che evolve, che si trasforma. Quindi vorrei che fosse chiaro che certo ci sono delle differenze, ma è ovvio come esistono nel cristianesimo e come esistono in qualsiasi pensiero dell'uomo. Il serpente, simbolo dell'ognosticismo, fa la muta, evolve, si trasforma, ma al tempo stesso mantiene molto forte la sua identità. E questo pensiero che per me a tutto il mondo occidentale, a un certo punto, proprio anche tramite il protestantesimo, come accenni tu, fa il grande balzo e attraversa l'Atlantico. Ed è qui, negli Stati Uniti, che in qualche modo inizia un nuovo percorso, assume una nuova identità. Assume un'identità insolita, perché quando pensiamo all'ognosticismo, finora hai parlato di Corpus Hermeticum, abbiamo parlato di Vangeli Apocrifi, di Pico della Mirandola, non ne abbiamo parlato, ma citiamo anche Paus. Pensiamo alla cultura alta. Ora, negli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono il melting pot per eccellenza, sono veramente un calderone ribollente dove l'alto incontra il basso e il basso l'alto. Bene, l'ognosticismo assume un'identità completamente nuova. Sto pensando ad esempio alla fantascienza di Philip K. Dick, che noi, per capirci, il padre di Blade Runner, di Minority Report, o per andare in ambito un po' più politico, ha anche The Man in the Eye Castle, che poi conosciamo anche come serie tv su Amazon Prime. O La Svastica sul Sole. È proprio questo, esatto. Il titolo ha due titoli ed è proprio The Man in the Eye Castle, in Italia lo troviamo come La Svastica sul Sole. Questa evoluzione dell'ognosticismo, che è dichiarata perché Philip K. Dick si definisce un ognostico e conosce a fondo i Vangeli di Nag Hammadi, in qualche modo inaugura una nuova epoca, una nuova epoca anche di contestazione politica. Philip K. Dick identifica nel demurgo, in questo Dio impostore che tira le fila di tutto, Richard Nixon. E quindi, in qualche modo, l'ognosticismo assume veramente un'identità molto più concreta, molto più popolare, ecco, se vogliamo, e anche molto più immanente nella cultura contemporanea. Perché curiosamente lì, curiosamente, no, fattualmente abbiamo negli Stati Uniti una concentrazione contemporanea, sincronica, direi, di tutte le zone del mondo e tutte le culture in cui l'ognosticismo si è manifestato. Cioè abbiamo una componente ebraica che ha nel messianesimo un'idea particolare, no? Andiamo a leggere certe cose di Leo Strauss, è difficile non ritrovare questi echi qui. Abbiamo i medio orientali, abbiamo quelli che vengono proprio da Oriente e portano la loro visione. Abbiamo a un certo momento un'infatuazione, alla fine degli anni Sessanta, per tutto l'Oriente, che aiuta, no? Cerchiamo l'illuminazione in India, perché è un'illuminazione che è spirituale, ma è anche politica, ma è anche una liberazione sessuale, perché poi l'ognostico, e questo è un aspetto che magari tratteremo la prossima volta, l'ognostico cerca, ha un'idea del corpo molto particolare. Ed è lì che arriva questi due tipi di idee. La prima è quella, no? Un po' dell'elezione, no? Noi siamo gli eletti, siamo quelli che portano in giro un po' la salvezza del mondo e che ritorna nella dottrina americana, diffusa, no? Puritana, perché il puritanesimo ha fortissime ascendenze gnostiche, l'idea del destino manifesto. Cioè noi siamo quelli che hanno la scintilla divina e devono portarla nel mondo. E non è un caso che nasca lì proprio questa idea woke, no? Cioè di quelli che sono gli illuminati, risvegliati e possono insegnare a tutti gli altri, no? Come ci si comporta per arrivare alla, in qualche modo, alla salvezza, alla purezza originaria. E qui lasciamo in sospeso queste cose che sono molto interessanti, perché appunto io già adesso ti estendo l'invito a parlarne nella prossima puntata di Bruno XL. Voi restate qui perché è una storia, guardate, è una storia interessantissima, poi parleremo anche di Matrix e di queste cose. Ripeto, non è un complotto, stiamo cercando di fare una storia delle idee, la definirei così, no? Ci sono autori potentissimi come Eric Fergelin che si sono occupati dell'ognosticismo in politica, pellicani da un punto di vista liberale, anche se a mio avviso i liberali sono gnostici, proprio io sono convinto di questo, spoiler, tanto lo dico sempre. Liberalismo e comunismo hanno una comune matrice che sta nell'illuminismo francese, il quale a sua volta è una forma palese di gnosticismo, ma proprio potentissima, no? Quest'idea appunto di un dio cattivo, che in questo caso è il dio cristiano, che va sostituito da qualcos'altro, da un'altra conoscenza e poi parleremo anche dei film. Intanto se volete documentarvi, così la prossima volta venite studiati, scegliete uno dei libri di Paolo Riberi, li trovate ovunque, se no sul sito di Lindau, potete scegliere Pillola Rosso o Loggia Nera, L'Apocalisse di Adamo, che è un altro bellissimo libro sulla genesi degli gnostici, quello magari è un po' più hard, no? Per chi vuole andarci in fondo. Invece Il Serpente e la Croce, che è bellissimo, duemila anni dignosi dai Vangeli apocrifi, ai Cateri, da Fausta e supereroi, e poi Il Risveglio di Neo, che è più recente e più fresco per gli amanti del cinema, però Il Serpente e la Croce è secondo me il migliore da cui iniziare, perché così avete un quadro completo. Se volete mandare domande, richieste, se siete fedeli a una sette, volete, in quel caso non mandate niente, ci dissociamo da qualunque offesa, non vogliamo offendere nessuno, stiamo ricostruendo la storia delle idee con massimo rispetto per tutti e se qualcuno vuole contribuire con, non è che io ce l'ho con i protestanti e voglio dire, uno la vede come gli pare, c'è un passaggio, no? Perché ci sono tante idee, anche politiche gnostiche, che non hanno nulla a che fare con la fede, c'è gente che non crede, è Atea, che però ha questa idea gnostica che ritorna e secondo me è fondamentale per capire la nostra società anche nelle sue degenerazioni. Quella wok, secondo me, è una degenerazione totale. Poi ci sono invece delle gnosi, come dire, di salvezza, ci sono gnosi di tanti tipi che possiamo approfondire a lungo, ce ne sono da tante parti. Io per ora ringrazio Paolo Riberi, vi invito a leggere i suoi libri. Noi torniamo su Bruno XL la settimana prossima, proprio alla vigilia di Natale, proprio sotto Natale, torniamo e parliamo ancora di queste cose perché sono fondamentali. Alla prossima. Grazie.